Musica Potente appara ragazzi Guavax, oggi è un'unica, oggi sono da solo e sono qui a presentarci un nuovo video Che ragazzi è un nuovo wager match Però, però, però ho da dirvi un attimo una cosa Una piccola cosa che qual è? Che praticamente in questo video non sarà la facecam Perché? Per quale ambiguo motivo? Perché non mi va? Che cosa abbastanza antattica Spero di farla risuscitare il prima possibile Se no riposerà in pace e io dovrò per forza cambiare dispositivo di registrazione Quindi un bel mi piace lo voglio già solo per far risuscitare la mia facecam Comunque, vale, senza non ci mandiamo, vi volevo dire un paio di cose La prima è di passare da prima con le stesse interessate a comprare i piedi di FIFA E la seconda, che non so se l'ho già detto Oggi sono qui a presentarvi un wager match di Weekend of the Season Pagato la bellezza di 495.000 crediti Però un po' tattico Perché infatti sarà una sorta di rivincita Contro un avversario che mi aveva già sfidato in un wager match battendomi Infatti, appunto, sto giocando contro l'avversario che mi aveva battuto Nel wager match di Church Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Ultimissima cosa, vi volevo ringraziare Per tutto il supporto che mi avete dato Ma soprattutto avete dato a me e a MarcoSingi58 Nell'ultimo video ci ha avuto un feedback della madonna Infatti abbiamo raggiunto tipo i 6.000 mi piace No, 5.656 Però siamo vicino ai 6.000 diciamo Quindi grazie mille Cerchiamo di almeno riuscire a fare arrivare a questo video A 4.000 mi piace Proviamoci e dai Poi l'ultimissima cosa Venerdì usciranno le nuove carte Poi inizierò a fare video anche un po' più frequentemente Appunto da venerdì Perché la scuola, diciamo, sta andando via via a finire Sono stracontento Venerdì appunto sarà l'ultimo giorno di interrogazioni Vedete che cose varie Comunque adesso non ho più niente da dire Andiamo a giocare E abbia ricevuto un dito di gioco Di chi sarà mai? Eccoci qua Squadra che... Utilizzerò una squadra che non l'ho mai utilizzata Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Comunque andiamo a vedere il suo team Valutato un inghie Ah che palle Barbo quadrato Che bolle Barbo quadrato Guateng Man of the match Quattro tots Un in forma Mio dio Riberino l'abbiamo visto Oh my god Subito Hulk Ma dai Gelataio matto Vede Ramirez E si riparte Ramirez 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 La mette in mezzo Dove c'è Samuelito Che non ci arriva No No alla prima non può farmi giacola La prima non può farmi giacola Ma dai Ma che due palle Prima azione Che sale Fa giacola Indovinate con chi Con il barbo Ciabolata morbida Il suo la para Il suo la para Quanto la para Oddio quante pare Madonna Su Vabbè Dai Raffaica Rioca Il pennarello Il pennarello Non va E tu per Surle Surle Perde palla Con due palle Madonna Ramirez Ramirez Per Surle E qua si Ridiamo Surle Surle avanza La mette Per Samuelito Che di testa va E fa l'uno a uno E andiamo Samuelito E tu Dai E tunze Tunze Dai Dai Su Con i numeri Avanza Avanza ancora La va a mettere Samuelito Non fa due Madonna De Bruyne Lo vede Oddio Fammelo No parata 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 De Bruyne la va a mettere In mezzo Dove c'è lui No No Dante No Hulk Va a metterla Dove Non c'è nessuno E va Patrice Con la Dai Con lo United Ha fatto un gol Dalla madonna Da lì C'è no Vedete E' questo Che mi fa arrabbiare Guardate un po' Sei tiri Quattro tiri In porta Lui uno E un gol Madonna Di là Hulk Chigno Eh Oh oh Andavo in porta Rosso Arbitro Andavo in porta Sì Sì Va bene Buono Va bene Così si fa le skill Kevin De Bruyne Mannaggia Te Raga Sembrava dentro Arbitro Arbitro Ma stiamo Scherziamo Come l'ha fermato Come Come Dimmelo tu Scherz 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 avanza Scherz la va a mettere In mezzo Non c'è Arriva Hulk Si sta solo difendendo Perché a lui Dio santo No Non mi arrabbio seriamente Perché l'ha data Il giocatore Qui non la doveva dare Mi sto per arrabbiare Seriamente E lo dico Non è possibile Dio santo Che schifo Di gioco Ma guarda te Passa in mezzo A due giocatori Oddio No la parata Non ci credo De Bruy la mette Scherz la Di testa Parata ancora Non ci credo Guarda te Ma no Dai 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 Ti prego No No Il suo giocatore Passa in mezzo Il mio No Perché Razzista Non ci credo Non me lo fa adesso Non me lo fa adesso Si Non me l'ha fatto Dai No Si va fuori Oh mio dio No No Dai Con staccola Da prendere Ma no Non ci credo Ragazzi Vi chiedo la rivincita Double or nothing Portiamola in Italia E ragazzi Ha accettato Stavo guardando la webcam Ma perché la guardo Quindi Andiamo A fare Questo Double or nothing